11 minuti, più che sufficienti per compiere un omicidio nel giardino di Palazzo Tè. E' stata definita la prima serie legal thriller antologica interamente ideata e prodotta in Italia. E' il processo, la fiction in 8 episodi ambientata a Mantova, che sarà in onda da venerdì 29 novembre su Canale 5 in prima serata. Dove l'avete adottata? Qui a Mantova, a Santa Caterina. Non ho già deciso, sono il mostro, questa è la verità. No Linda, la verità non esiste, è quella cosa finta che viene costruita in aula. Numerose le location mantovane che fanno da sfondo alla trama. Palazzo Tè, Piazza Sordello, Palazzo d'Arco, Palazzo Cavriani, Palazzo Andreani e i laghi. Comunque è stata linda, eh? Col candelabro in giardino. La serie TV, diretta da Stefano Lodovichi e prodotta da Lucky Red con il sostegno del comune di Mantova, vede i protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. Nel cast, tra gli altri, anche Camilla Filippi, Simone Colombari, Maurizio Lastrico, Euridice Axen, con la partecipazione straordinaria di Tommaso Ragno e Roberto Herliceka. Io non so che cos'è che ti muove, ma se vuoi vincere lo sai anche tu che siamo debole. Il processo racconta di un coro di personaggi che gravitano intorno a un unico drammatico evento. L'omicidio brutale di Angelica, una diciassettenna, è coinvolta in affari più grandi di lei, il cui corpo viene ritrovato sul greto del fiume. Tutto finito. Questa mattina a Mantova, l'Ariston si è tenuta all'anteprima dei primi due episodi a cui hanno presenziato, tra gli altri, il sindaco del capoluogo Mattia Palazzi, l'attrice Camilla Filippi, il regista Stefano Lodovichi e il direttore fiction mediaset Daniele Cesarano. È stata questa l'occasione per il primo cittadino di ribadire come la fiction rappresenti una nuova e importante promozione nazionale della città. Ha insistito in particolare sull'importanza che i laghi hanno nella fiction, elemento che da tempo l'amministrazione di Via Roma sta cercando di valorizzare su più fronti. Appuntamento dunque con il processo venerdì 29 novembre in prima serata su Canale 5.